Magnus Carlsen si riconferma re degli scacchi a Dubai. Il gran maestro norvegese per la quinta volta numero uno al mondo ha battuto il rivale russo di sempre. Matteo Alviti. Lo sguardo fisso sulla scacchiera mentre i pensieri viaggiano alla velocità della luce. Il mondo in 64 case 32 pezzi e il re di quel mondo è lui, Magnus Carlsen. Cinque volte re. Il norvegese ha vinto ancora una volta la corona e i mondiali di Dubai sconfiggendo il russo Jan Nepomniarchi. Nepo per tutti. Arrivato un po' a sorpresa alla finale giocata all'Expo. Dopo cinque partite finite in parità ero bloccato. Poi qualcosa ha fatto clic e tutto ha girato a mio favore. Una sfida infinita quella tra Carlsen e Nepo. Entrambi 31 anni. I due si affrontano da quando erano bambini. A 11 anni i primi duelli. Vinceva sempre il russo. Poi le cose sono cambiate. Non è soddisfatto Nepo. Certe cose non mi capitano mai. Nella mia carriera ho perso partite in modo stupido ma mai tante in così poco tempo. Non sono amici. Si stimano e si rispettano. Carlsen partiva da favorito al primo posto del ranking mondiale ininterrottamente dal 2011. Due anni più tardi arriva il primo di cinque titoli mondiali. Gioco brutale. Gli scacchi con montepremi milionari ai massimi livelli. A Carlsen andranno 1.200.000 euro. Solo 800.000 a Nepo. Grazie a tutti.